buongiorno a tutti e benvenuti alla resegna stampa di oggi primo settembre siamo a giovedì 2022 siete sul canale 19 del digitale terrestre in diretta da lunedì al sabato c'è occhio giornali il momento in cui noi andiamo a vedere i giornali che abbiamo selezionato con i titoli sul resto del calino e corio adriatico oggi avremo anche la verità e così passeremo i prossimi 15 20 minuti insieme però come sempre andiamo a vedere il santo del giorno grazie alla grafica lo vediamo subito oggi è sant'egidio il sole è sorto alle 6 30 tramonterà il 19 46 e adesso invece andiamo a vedere il tempo il tempo lo guardiamo con questa webcam che fino a poco fa dava spettacolo con spettacoli elettrici nel senso che con tanti lampi fulmini e saette adesso si è un po placato si è un po calmato tra l'altro chi si sveglia presto al mattino quindi quando è ancora buio avrà sicuramente notato il chiarore la bellezza di questi lampi che come tanti flash fotografici rischiava hanno rischiarato insomma la notte il buio prima dell'alba questa è pesaro baia flaminia allora adesso andiamo a vedere invece il andiamo a vedere il tempo con le previsioni della protezione civile delle Marche questo è il quadro della giornata di oggi giovedì primo settembre come dicevamo rovescio temporali diffusi anche di forte intensità più probabili nella mattinata nel settore centro settentrionale poi nel pomeriggio invece nel sud della regione Marche esaurimento dei fenomeni dal pomeriggio a partire da nord e poi in serata nel settore meridionale domani il tempo come vedete migliora ci sono soltanto un po di nuvole senza precipitazioni mentre la pioggia tornerà sabato 3 settembre soprattutto sul crinale appenninico e adesso andiamo a vedere i giornali cominciamo dal Corriere Adriatico edizione di Pesaro guardia medica sette giorni su sette questo è il titolo d'apertura di oggi a settembre a Pesaro il distretto ritorna a garantire il servizio per tutta la settimana di fatto coprendo il mese ma si va avanti un po così a vista di mese in mese evidentemente comunque coprendo il mese di settembre una boccata d'ossigeno grazie ai dottori neolaureati ma niente da fare per i comuni di Vallefoglia e di Gabiccio centropagine invece la visita di Gorbachev viene ricordata nelle Marche e l'accordo con la Merloni con Merloni del leader russo quindi di Gorbachev che lo ricordiamo è scomparso e morto martedì quando Gorbachev suonava l'organetto questo è il titolo di questa fotonotizia poi di spalla in carichi a scuola oggi chiamata per i presidi ecco chi resta e chi trasloca dunque ci sono le nomine trasferimenti dei nuovi presidi chi resta appunto sulla sua scrivania e chi invece dovrà traslocare. Poi notizie in breve da qui sotto a Pesaro ponte ciclopedonale l'impresa è al lavoro ma non sul foglia i sindaci chiedono invece quelli Cagli e le zone limitrofe sul Pozzo del Burano dicono che c'è stato uno sgarbo istituzionale niente condivisione e quindi insomma si è fatto un po' da sé. Poi a Fano invece variante Gimara la soprintendenza chiede la galleria quindi alcune modifiche sotto invece pane non possiamo aumentare il prezzo i fornai sui rincari dell'energia elettrica dicono i rincari sul listino troppo recenti ora siamo costretti a produrre praticamente in perdita e poi si parla delle nozze di Gimbo l'atleta il grande giorno mi sposo e lo faccio nelle mie marche. Questa invece è la prima pagina di Pesaro assedio a Ricci verso 19 al 19 verso il processo sono i cosiddetti Novax e altri che nel 2021 si radunarono sotto casa del sindaco minacciandolo tra loro anche Carriera il ristoratore poi centropagine invece le parrocchie in bolletta anche le chiese soffrono il salasso energia e anche qui la visita ricordo della visita di Mikhail Gorbaciov eccola qua uomo di pace a Urbino firmò la carta della terra poi a Fano variante Gimara la soprintendenza boccia il percorso deciso del comune e a San Costanzo invece Monteschiantello nobi partisan all'ampliamento della discarica sopra Pesaro vince la battaglia torna la guardia medica per tutti i giorni di settembre l'Asur ha assunto una decina di neolaureati qui sotto invece per cacciare le tortore ora serve la password e ovviamente le le doppiete cioè cacciatori soprattutto quelli più anziani che non hanno dimistichezza con la tecnologia protestano e dicono insomma stanno facendo di tutto per impedirci di continuare a cacciare in groppa al mulo invece dal Nerone alla Francia l'impresa di due sessantenni questa invece è la prima pagina della verità eccolo qua il giornale diretto da Maurizio Belpietro il PD vuole il colpo di spugna sul covid la resa dei conti sarà alle urne il 25 di settembre il neocandidato Andrea Crisanti il televirologo oggi a fianco di Speranza dopo averlo criticato si schiera contro la commissione d'inchiesta sulla pandemia il televirologo in lista dice basta il processo di Bergamo dove tra l'altro è consulente non è affatto così però i PM devono accertare eventuali reati e l'indagine parlamentare serve a far luce sugli errori commessi e visto come è andata è indispensabile vi consiglio la lettura dell'articolo di Maurizio Belpietro che parte in prima pagina dove in sostanza dice che le commissioni non ama le commissioni d'inchiesta perché portano praticamente non portano mai a nulla vedi anche l'ultima in ordine di tempo quella sulle banche però ciò detto dice Maurizio sostiene Maurizio Belpietro l'unico aspetto positivo che non è da poco però come vedremo è che con le commissioni d'inchiesta queste commissioni hanno un pregio che consiste nel fatto che gli atti sono in gran parte pubblici così come le audizioni andiamo sull'altra pagina nella pagina interna della verità il titolo è chi vuole il silenzio sulla gestione del virus il candidato del PD Crisanti si oppone appunto alla bicamerale sull'emergenza dopo aver criticato il governo in veste di esperto per lui basta l'inchiesta di Bergamo il virologo svela così la paura della sinistra e ci fa capire che l'inchiesta è l'unico modo per vederci chiaro e qui continua l'articolo come dicevo di Maurizio Belpietro che tra l'altro dice Crisanti per due anni ha avuto molti dubbi e ha accusato Roberto Speranza tra l'altro candidato del PD e che sicuramente tornerà a fare il ministro della salute se vincerà la sinistra Roberto Speranza di aver preso decisioni sbagliate adesso che è candidato con il PD dunque fianco a fianco con il ministro della salute dimentica tutto e dice che non serve una commissione d'inchiesta e invece no scrive Belpietro la commissione serve proprio per far luce su tutti gli errori commessi se non si è fatto un uso massiccio per esempio di antinfiammatori nella fase iniziale della malattia qualcuno lo dovrà spiegare e ne dovrà rispondere se si è lasciato credere che bastasse un QR code cioè un green pass per essere liberi dal covid e così non era qualcuno dovrà pagare se sono state alimentate fake news di stato che hanno illuso e ingannato milioni di italiani qualcuno dovrà spiegare il perché e quindi viva la commissione d'inchiesta votate soprattutto quelli che la chiedono e non quelli che la rifiutano adesso torniamo alle notizie locali il ritorno in mare dei pescherecci con l'incubo del caro gasolio e in tutti i porti delle Marche riaccenderanno i motori tra il 12 e il 21 di settembre è partito il conto alla rovescia dunque per la ripresa delle attività di pesca i pescherecci di tutti i porti delle Marche tra il 12 e il 21 di settembre torneranno ad accendere i motori ma i dubbi e le incognite continuano ad essere tanti e da Pesaro a San Benedetto il problema più grande è sempre lo stesso cioè il caro gasolio il prezzo del carburante infatti è rimasto sempre lo stesso intanto non c'è solo il carburante c'è anche il problema come dicevamo dell'energia elettrica quindi tutte quelle aziende che lavorano con l'elettricità per esempio i panettieri coloro che hanno i forni accesi gran parte della giornata per sfornare il pane e il Corriere di oggi ne ha intervistati alcuni per esempio c'è Marcello Angelini che è presidente dell'associazione panificatori aderente al Confcommercio che dice noi panettieri lavoriamo in perdita e c'è chi pensa di spegnere il forno Angelini spiega perché ritoccare i prezzi non è possibile perché troppo recenti sono stati già gli aumenti e le bollette toccano anche le chiese il Carlino ha un debole per le chiese per la vita delle parrocchie, dei parroci e quindi non ha resistito e quindi è andato subito a chiedere come se la passano i preti con questo caro bollette le bollette scottano anche ai preti è normale perché sono persone come noi e quindi parrocchie in allarme ammessa con la borsa addirittura dell'acqua calda guardate che tragedia i sacerdoti preoccupati parlano di costi raddoppiati e offerte in calo così in inverno dovremo chiedere aiuto ai fedeli e sfruttare soprattutto le cappelle più piccole intanto chiudiamo il gas troppo costoso scaldiamo tutta la casa con il camino la scelta di Matteo Italiano per i genitori pensionati la legna la troviamo nel campo e si parla di legna non di pellet perché come dicevamo l'altro giorno anche qui per un disegno speculativo quasi diabolico anche le buste del pellet hanno già iniziato a rincarare ma soprattutto aumenteranno ancora di più per ora sono raddoppiati i costi di una busta di pellet ma qualcuno parla già che triplicherà intanto sulla cronaca di Fano la soprintendenza chiede la galleria una mazzata sulla variante Gimarra un progetto approvato ma proposte delle modifiche stupore da parte della Giunta la scadenza il 31 di dicembre dunque spiazzato l'ente locale cioè spiazzato da questa richiesta il comune di Fano in queste ore spiega una nota ufficiale diffusa dopo la conferenza dei servizi l'amministrazione comunale si riserva di effettuare le opportune valutazioni in merito alle modifiche e agli interventi progettuali con la consapevolezza che sia necessario ottenere insieme una visione organica finalizzata allo snellimento e l'alleggerimento del traffico viario e allora la soprintendenza boccia anche dunque questo percorso della variante la lega chiede le dimissioni dell'assessore del vice sindaco Cristian Fanesi per un progetto che è stato portato avanti con insostenibile leggerezza anche qui come in tutte le questioni quando si parla di espropri quando si parla di togliere qualcosa a qualcuno che pensa di avere un diritto a vita natural durante bisogna capire io non conosco per cui non riesco a fare un commento preciso non conosco nei dettagli la variante quindi mi astengo però ecco in linea generale quindi non pensando alla variante specifica di cui sta parlando il giornale ma in linea generale è sempre importante ribadire un concetto che cioè per numero esiguo di persone non si può sacrificare la collettività quindi ma ripeto non sto facendo un discorso perché non lo conosco nel dettaglio se c'è un'alternativa alla strada prevista dal comune beh venga insomma si studi questa alternativa chiaro che se poi costa dieci volte di più comincia a essere un problema però ecco questo ritengo importante per cento la comodità di cento persone che magari hanno scelto la casa lì per stare in paradiso e non si può sacrificare migliaia e migliaia di persone che invece tutti i giorni rimangono imbottigliati nel traffico cittadino con tanto di smog e quant'altro quindi ecco questo è un po' in linea generale ma ripeto non era in questo caso non era riferito alla variante che conosco poco come progetto allora sedio sotto casa di Ricci invece questa è la notizia che troverete a pagina 3 del Carlino di oggi per 19 persone il processo è vicino la procura ha chiuso le indagini e notificato ieri l'avviso di conclusione nell'elenco il nome di Umberto Carriera minacce e violenza privata queste le accuse addirittura per chi era queste persone come vedete che tengono in mano bastoni forconi lanterne fiaccole eccetera quindi muniti tutti con fucili e bazooka ecco queste persone qua sotto rischiano fino a 6 anni di carcere tutti questi 19 indagati rischiano fino a 6 anni di carcere per i reati appunto ipotizzati di minaccia e violenza privata aggravata se il cane invece abbaia troppo la legge tutela il vicino dopo le lamentele dei residenti qui siamo sulla pagina di Fano del resto del Carlino dopo le lamentele dei residenti di una via della città interviene l'avvocato Cagli che parla di un'ordinanza della Corte di Cassazione che apre a nuove possibilità dunque non è vero che con le leggi attuali non c'è soluzione cioè se il cane abbaia purtroppo bisogna sopportarlo è di pochi giorni in fa invece una ordinanza della Corte di Cassazione che apre a nuove possibilità di vedere tutelato il proprio diritto alla salute e quindi al poter dormire al poter stare tranquillo eccetera eccetera poi invece sempre sulla pagina di Fano guardate questa notizia eccola qua gli danneggiano la sua auto e lui avverte il vandalo con i volantini tappezzate le vie del centro cittadino praticamente questo uomo questo signore ha tappezzato le vie del centro di Fano centro storico con un messaggio curioso e vagamente minatorio che in tanti l'altro giorno hanno letto l'anonimo autore non si è firmato ma sicuramente si è sfogato per il torto subito infatti l'altra mattina l'autore o l'autrice ha trovato la sua auto danneggiata e così ha voluto far sapere al vandalo che sapeva bene chi era e non gli avrebbe lasciato scampo il rischio penale per la sua azione era alto e così sarebbe stato meglio risolvere subito le cose tra uomini prima di doverci mettere di mezzo la legge in tanti leggendo la missiva leggendo questo foglietto questo volantino appiccicato ai pali della luce pubblica insomma hanno fantasticato su quali potessero essere i motivi tra questo botta e risposta tra i due una sola cosa è certa l'anonimo autore del lungo messaggio voleva che tutti sapessero e poi se volete leggere insomma il contenuto o andate in centro e vi fate una passeggiata ammesso che ancora ci siano questi volantini oppure ricopate il giornale a Urbino invece Gorbachev quel giorno memorabile titolo nel 2001 il leader sovietico appena scomparso mise la firma sulla carta della terra un documento storico e visionario mentre oggi l'ultimo saluto in Duomo a Manuela Varchi Aperti per l'accesso libero a tutti sarà celebrata alle 15 la messa per la nota pizzaiola del buco uccisa da un malore fatale tutti i posti di coltoglio sui social insomma oggi c'è questo c'è questo c'è il rito funebre al quale sicuramente parteciperanno tante persone che l'hanno conosciuta poi l'aquilone invece sempre da Urbino l'aquilone è al centro della prima della pagina la notizia più importante della cronaca di Urbino l'aquilone del cuore per Sirto Sorini al via con i bambini quattro giorni di festa ora chi è Sirto Sorini è questo signore che vedete nella fotografia pubblicata dal giornale e che è morto nel novembre scorso e pensate che era l'unico urbinate ad aver partecipato a tutte le prime 66 edizioni domani ci sarà l'omaggio per lui delle 10 contrade oggi intanto è il giorno più atteso non solo per le migliaia di contradaioli che stanno lavorando incessantemente ma per tutta la città di Urbino sperando sempre ovviamente nel bel tempo intanto da Senigallia multe un salasso 100.000 euro al mese ma non bastano per centrare l'obiettivo sanzioni se stuplicate nel trimestre aprile e giugno i T-Red e le telecamere hanno fotografato 1.203 automobilisti questo è un resoconto della stangata che è stata messa in campo dalla giunta di Senigallia dove c'è appunto viene registrato questo vertiginoso aumento delle multe nel secondo trimestre dell'anno ma l'obiettivo come dicevamo del 1.900.000 euro previsto nel bilancio per il 2022 è ancora lontano finita le pagine le abbiamo terminate le abbiamo selezionate ovviamente non tutte per le dei giornali allora noi ci fermiamo qui ringrazio tutti coloro che ieri in tanti hanno risposto alla domanda che ho posto riferendomi ai quattro malori tre di cui fatali registrati in poche ore nella provincia di Pesaro e Urbino la risposta è esatta per le tante persone che ci hanno inviato il messaggio a parte due che hanno farneticato per il resto devo dire con piacere insomma che la gente si sta svegliando e questo è importante non mi chiedete qual è la risposta perché non siamo in un paese libero quindi certe cose non si possono dire e allora immaginate voi qual possa essere la risposta esatta alla domanda che ho posto ieri vi auguro come sempre una piacevolissima giornata stiamo sereni stiamo tranquilli e andiamo avanti e ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia arrivederci a presto la notizia a presto a presto a presto